Mi chiamo Andrea Maccarone, studio dell'Università di Padova in Italia e sto comprendendo un mio Master in Ingegneria di Energia Eletrica. Il mio programma appunto si basa su un internship della durata di tre mesi qui in Saint-Germain, in Cina. Lavoro nel settore ingegneristico, la compagnia per cui lavoro produce essenzialmente illuminazione che poi viene distribuita in paesi di sviluppo o paesi sottosviluppati nei quali non esiste l'illuminazione artificiale, quindi è una social enterprise. Attualmente mi lavoro nel controllo qualità, quindi mi viene affidato al prodotto finito, io devo controllare che questo prodotto sia conforme alle normative e alle specifiche definite dell'azienda e in generale dell'Europa del mondo. Il mio supervisore ha appunto un ottimo rapporto perché parlo bene l'inglese, apprezza molto il mio lavoro e comunque mi fida delle tasche piuttosto interessanti. Quei colleghi sono comunque molto amichevoli e molto disponibili per ogni necessità. Quello che mi è piaciuto di più è il fatto di poter conoscere una grande quantità di persone proveniente da paesi completamente diversi. Inoltre appunto un'esperienza come quella che abbiamo fatto qui in Cina è qualcosa di unico in quanto si va in un posto completamente distante e diverso dalla propria realtà, quindi è un'esperienza di vita. Mi è piaciuto moltissimo il fatto che i mezzi pubblici siano organizzati in maniera molto efficiente, questo sicuramente vi mancherà. Inoltre c'è il fatto che essendo una grande città c'è la possibilità di vedere qualcosa di nuovo praticamente nel giorno. La cosa più pazza probabilmente sono le mototaxi perché appunto sono fuori di testa. La cosa più pazza probabilmente sono le mototaxi. La cosa più pazza probabilmente sono le mototaxi. La cosa più pazza probabilmente sono le mototaxi perché appunto sono le mototaxi. Quando